Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino24, il più dinamico del web! Questo video è un po' diverso, come vedete la qualità è un po' più scarsa, ma c'è un motivo, c'è un motivo. Tra l'altro io non penso di avere molto tempo a disposizione per poter fare gli eventuali tagli, quindi vai giù, mi dovete sorbire un po' integralmente. Mi dispiace, mi dispiace per voi, non mi dispiace per me, ci dispiaciamo a Vicenza, a Vicenza. Allora, dove mi trovo? Mi trovo in Germania. Che cosa sto facendo in Germania? Sto lavorando e mi direte, ma come te sei andato da Londra, sei in Italia, sei in Germania, non state capendo più niente, scommetto, vero? Ve l'avevo detto io che avrei viaggiato un poco? Ve l'ho detto o non ve l'ho detto? E certo che ve l'ho detto. Ve l'ho detto quando stavo a Siracusa che avrei viaggiato un po'. Perché? Perché tengo sempre un po' parafrasando, Machiavelli, tengo i pitbull che sbagliano proprio i cervelli, i bazzieri, già faccio più... No, allora, a parte gli scherzi, ragazzi, mi trovo in Germania, a Friburgo. Perché mi trovo in Germania e a Friburgo? Perché sono stato inviato qui da un'azienda presso la quale... Un'azienda! Non posso dire tutto! È un'azienda segreta? È un FBI? No, non lo è! Per niente! No, allora, Statscan. Allora, sto qui perché mi ha inviato un'azienda. Voi mi direte, ma come noccioli? E qual è questa azienda? E allora, ve lo spiego. Vi ricordate? Lavoravo per Pretamanger come M.O.D., che sarebbe manager on duty, che avevo fatto tutte le cavette, insomma, tutta la storia, la sapete già. Poi, se non vi ricordate male, a un certo punto mi sono scocciato, perché mi sono fatto i conti, perché mi era aperto anche l'Evil on the way, quindi mi sono fatto i conti. Ho detto, ma a me mo' fa fa di continuare, cioè, comunque, l'Evil on the way mi permette di vivere dignitosamente, mi concentro sull'Evil on the way. Però, siccome io non riesco a stare senza fare niente, tra virgolette, cioè, sono dannato, mettiamola così, ho trovato nel tempo diversi lavori, perché c'è sempre una migliorata. E con questo non voglio dire che ho chiuso l'Evil on the way, assolutamente. Anzi, l'Evil on the way viaggia tranquillamente, ci sono state anche delle evoluzioni che, per le persone che mi conoscono anche personalmente, che mi seguono su YouTube, sanno benissimo cosa è successo. Non mi posso, diciamo, esprimere ulteriormente, mamma mia, come sto parlando pulito in questo momento, cioè, in pratica, non posso dire effettivamente cosa è successo con L'Evil on the way, però, diciamo, che L'Evil on the way sta sotto la mia diretta directorship e non più, diciamo, come forma societaria. Ma non era questo, diciamo, la cosa di cui volevo parlare, ma soprattutto dell'esperienza poi successiva. Come sapete, sono andato a Siracusa, ho aiutato un amico a gestire degli immobili sull'isola di Ortigia, tra l'altro bellissima, ragazzi, vi consiglio di visitarla. Io mi sono innamorato della Sicilia, com'è bella, madonna mia. Se un giorno dovessi comprare casa in vacanza, la comprierei sicuramente in Sicilia. Me ne sono innamorato. Comunque, va bu, a volte di giro, eccetera, 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 insomma, sono arrivato a lavorare in un'azienda. In un'azienda di preziosi, che esporta a livello internazionale. Non posso nemmeno in questo caso dilungarmi troppo sui dettagli di quest'azienda, anche perché non penso che interessino particolarmente. Diciamo, mi occupo quindi della parte del marketing e dell'amministrazione. È un lavoro che mi piace tantissimo, molto molto stimolante, perché, come sapete, io sono laureato in lingue a livello economico, ragion per cui riesco a sfruttare le mie competenze di studio, cioè delle competenze che ho acquisito durante il mio corso di studi, nel campo lavorativo, ed è una figata pazzesca, perché sono uno di quei pochi fortunati ad essersi laureati in lingue e aver trovato comunque un lavoro che soddisfi, diciamo, soddisfi il laureato, perché, parlandoci molto chiaramente, ci sono persone laureate in lingue che poi si ritrovano a fare tutt'altro lavoro. E questa è una cosa bellissima. Per me, ovviamente, mi dispiace per gli altri. Non mi dispiace, ma ero per quelli lì che sono stati cattivi con me durante questo percorso mio universitario. Ce ne sono stati, tra professori e anche colleghi universitari. Babbo, c'è una volta, andiamo a parlare di queste cose così. Quindi vi voglio dire un po' con la mia. Allora, la cosa meravigliosa è che sono venuto a Friburgo. Tra l'altro, io non mi aspettavo di andare a finire a Friburgo. Sto qua per pochi giorni, per circa una settimana. Ed è una cosa meravigliosa, perché in pratica sto facendo una fiera a livello internazionale, dove appunto si concentrano tutti i produttori, i gioielli, sia montati che già costruiti. E io sto vedendo cose pazzesche. Cioè, vedo perle, diamanti, rubini, smeraldi. E da premettere, una cosa c'è da fare una precisazione. Sono stato sempre convinto che da un diamante non nasca nulla e che dalla merda nascono i fiori. Quindi, paradossalmente, mi sono ritrovato catapultato, e adesso è già da un bel po', quindi non è che sono stato assunto ieri, in questo mondo, che sinceramente non mi attirava più di tanto. Poi invece, standoci all'interno, mi ha preso molto, perché effettivamente ci sono delle cose, quando si parla poi di manifattura, non sto parlando di diamanti in questo caso, ma più del prodotto che tratta la mia azienda. E nulla, veramente mi ha colpito, perché la mano d'opera, a me, su stasera, una persona che ci piace ficcosa manualmente, mi piace molto l'artigianato in generale. E questa veramente, per me, è ponte di ispirazione. Cioè, sinceramente, mi ci metterei pure, se avessi il tempo, poi va a creare delle linee, delle linee di collane, bracciali, sarebbe una figata, sarebbe proprio una figata. Un po' mi frulla per il cervello una cosa del genere, però vabbè, ovviamente rimangono idee, perché ovviamente il tempo non c'è. Perché, vi spiego, io del tipo, sono adesso tre settimane in cui non mi sono fermato un attimo. Tra l'Imi London Way e il lavoro, diciamo, in questa azienda. Non ho preso ancora un giorno libero da dedicare solo e esclusivamente a me, però ne vale la pena. È una cosa bellissima, è un'esperienza magnifica. Con me, Friburgo. Friburgo è una capata, è proprio bella. E poi mi aspettavo, essendo germane, mi aspettavo, le persone un po' più fredde, più distaccate. Invece no. Mi sono fermato in mezzo alla strada per chiedere un'informazione, cioè al semaforo o alla macchina. Ho chiesto a uno, mi dicevo, ti preoccupa, accostati, te lo spiego. Questa ha perso dieci minuti a parlare. Un momento, mi stanno contattando su Skype. Aspettate. E nulla. Questo si è messo a perdere un sacco di tempo insieme a me, spiegandomi le cose, perché poi ovviamente qui ho strogotto, perché io non capisco il tedesco, proprio zero. La cosa bella è che comunque molti parlano parlano inglese. Questa è una cosa importantissima. se io non fossi andato in Inghilterra anche come lavapiatti e se non avessi imparato bene la lingua al 101% adesso non mi troverai qua. La figata è che mi pagano il vitto, l'alloggio, gli spostamenti, i piatti, tutto. Tutto. Ed è bellissimo. Cioè mi sento appagato in questa cosa, perché è bellissimo. Cioè vi faccio vedere la mia stanza. Cioè io sinceramente lo metto in mani di capillo e ve la faccio vedere. Allora. Ok. Faccio vedere anche i fumi. Sperando che non si chiuda. Allora. Così. Gigantesco. Poi si entra. Ok. Qui dentro c'è il bagno. Ma non vi accendo la luce solo perché perché sennò mi fa rumore la ventola e mi dà fastidio perché dopo dieci minuti si spegne. E dà fastidio quindi anche a voi. Poi qui ci stanno i mobili. I mobili un po' ovunque. La mia bella scrivania. Vabbè sta un po' in disordine perché vabbè lasciamo sta. Poi lì ho spostato io la lampada con due divani. Divanetti. E poi un bel lettone matrimoniale. E poi una bella veduta fuori che vabbè mo' è buio. non potete non potete vedere. E' una fiata. E poi ci sta anche la televisione satellitare. Cioè veramente si sta benissimo. E e quindi cioè ragazzi che cosa voglio dire con questo? Sinceramente io mi sono fatto un culo come una rapanna a Londra. Ci ho creduto tantissimo. Sapete ho lavorato con i polacchi ho lavorato veramente con gente che mi ha trattato una merda. però cioè ho sempre voluto fare ho sempre voluto fare ho sempre voluto fare cioè come un pazzo. E soprattutto l'ho sempre fatto a pugni stretti con la voglia di riuscirci. Nel tempo perché non è stato facile per me e ve lo assicuro io mi sono laureato in lingue vivendo in Inghilterra. Poi tornavo in vacanza in Italia e mi facevo gli esami. Quindi in pratica per me per quattro anni non ho avuto una vacanza dal lavoro che diciamo poteva essere chiamata vacanza perché la mia vacanza era fare gli esami. Cioè cose assurde però ecco questo è cosa voglio dire quello che si semina quello si raccoglie se ci sono riuscito io ci potete riuscire anche voi lo dico sempre però è vero cioè senza che ci giriamo attorno perché io sono un ragazzo semplicissimo tra l'altro vengo da un'esperienza di vita un po' difficile perché sapete io sono andato in Inghilterra con 500 euro e vi assicuro la vita con me non è stata assolutamente benevola ho avuto anche brutte esperienze a partire dagli affetti perché come sapete chi mi segue dall'inizio io quando sono venuto in Inghilterra ero fidanzato poi sono stato vabbè ci sono stati cassini che non ve ne dico un anno impressionante per me è stato perché io in un anno per non far per non far pensare nulla di male a quella che all'epoca era la mia ragazza sono uscito 5 volte di casa e facevo solo lavoro casa studio e nient'altro poi ho avuto il ben servito però meglio così molto meglio così perché poi da questa cosa dalla frustrazione che poi ne derivò perché inizia a pensare tante cose che mi sono state dite eccetera creai Living on the way e quella è stata proprio una svolta per me una cosa bellissima perché poi questo era il pensiero io volevo aiutare le persone volevo che non volevo speculare sui ragazzi ma volevo trovarci anche un mio guadagno mi venne tutta questa idea e insomma creai quello che attualmente è un'azienda che comunque va avanti da tre anni e passa sinceramente una versione che arriva con 500 euro in tasca all'onra creare questo poco sinceramente io ne sono orgogliosissima e che cazzo pozzerisce che ne avuto ogni tanto ne sono orgoglioso e poi mi ha già fatto un culo come la capanna perché poi mi sono laureato e ma veramente che mi soffierate fa e poi ecco mi trovo qui io non lo so sinceramente se questo era il mio settore per sempre perché poi sinceramente non so manco io qual è il mio settore perché io mi divido tra i settori oramai però è un è una cosa che mi sta piacendo mi sta piacendo proprio assai e è nulla quindi chi la dura la vince e io ce l'ho duro voglio dire voglio dire sono duro e voi è certo che siete duri ce la dovete fare per forza perché non c'è questa alternativa non ci può essere l'alternativa non si può fallire perché se uno parte già col presupposto che si sta fallendo allora sei un fallito ma io stai a casa sul serio invece se hai cervello e vuoi imparare magari una lingua perché magari ti può servire nel tuo lavoro perché magari non lo so perché ti può servire la lingua però diciamo che in un mondo globalizzato adesso l'inglese è un must e io sinceramente mi ha già ingrippato io vorrei impararmi ad essere il cinese e non mi nascondo che vabbè ci sono dei progetti in cantiere e veramente vorrei riprendere l'arabo perché io ho fatto un esame di arabo ma mi ha giustato diciamo in gran parte delle cose ma sarebbe una cosa bellissima poterlo imparare di nuovo cioè impararlo di nuovo approfondirlo perché adesso mi ha giustato tutto questo ma io se prendo un libro in mano e magari lo pratico soprattutto sul campo lavorativo cosa molto probabile magari veramente lo riesco a masticare meglio quindi questo video è per dirvi che ce la potete fare e ce la dovete fare il fallimento non è concepibile non vi sto dicendo di andare per forza a Londra non ve lo sto dicendo magari come qualche maligno può credere che vi dico venite a Londra perché poi va già affittata a casa è una stronzata perché cioè chi vuole venire comunque chi vuole soffrire dei servizi di living on away lo fa lo stesso indipendentemente dai miei video come non portami ma veramente pensate cioè seriamente pensate che io mi mettevo a fare tutto questo bordello su YouTube per prendermi i clienti e poi chi sono scema cioè quelli che mi guardano dicono ah vabbò oggi vi sta nocciolino quindi what all'uomo mi affido a living on away no non è non è così lo faccio perché veramente sono convinto che l'italiano e permettetemelo anche e soprattutto l'italiano del sud teno pepangula e datevi la mossa è un video per scuotervi ce la potete fare ce la potete fare non vi abbattete non fatevi abbattere assolutamente dalle persone che vogliono affossare le persone che dicono che per esempio in Inghilterra a Londra non c'è lavoro c'è sempre lavoro ogni cinque passi che si fanno cinque lavori si trovano chi dice che non c'è sta dicendo una stronzata chi vuole lavorare lavora certo magari non su uno non si conosce la lingua non si può pretendere di andare a fare l'ingegnere aerospaziale ma se uno va con l'umiltà e dice io non so parlare la lingua quindi vado a fare lo sguattero perché questo è il kitchen porter non è il lavapiatti è lo sguattero così come l'ho fatto io a me e meglio arrivano dentro la stanza delle cipolle nella stanza delle cipolle va giù mi mettevano una mascherina a sti polacchi la mascherina si riempiva di lacrime mi chiudivano proprio l'ho fatto l'ho fatto fin quando ho potuto poi dopo ho cambiato ho cambiato ancora ho cambiato ancora dinamicità dinamicità guarda giù fanno camera i pazzi qua dentro comunque Friburgo è meravigliosa è bellissima è un borgo sembra tipo medievale ci stanno le strade pulitissime un aeroporto poi qui vicino una figata ovviamente Volkswagen Caval Mercedes Golf si capisci niente qua nulla io mi leggo un po' ecco per farvi capire no mannaggia la miseria vi devo far capire allora questo è uno dei più bei regali che io abbia avuto nella mia vita più utile regalo che io abbia avuto nella mia vita è un Kindle eh studio studio ancora voglio dire ma come ti sei laureato e che fai studi ancora si studio perché ha già capire cose le devo capire devo capire come ha già fa la vita è una non voglio morire come un idiota senza aver fatto niente perché vuoi dire ma come lavori tieni l'azienda questo quell'altro non ma basta ma non è per una questione di soldi me ne fotto proprio dei soldi io li odio ah e che se poi la gente veramente questa è una cosa importantissima la gente non lo capisce non capisce che io odio i soldi per me i soldi sono un mezzo un mezzo per poter fare altro si dice quando uno dice ah non tengo i soldi dice abu pensa saluto è altrettanto vero che una vita senza soldi è una mezza malattia quindi con questo cosa voglio dire voglio fare le cose per avere dei soldi per fare altro questo sapete come si chiama ma io spirito imprenditoriale sono dannato mi merà l'ulcera sicuramente tutto quello che volete voi però io sinceramente a 60 anni mi resta tutto ambronzato su una barca una barbatante bellissimo bellissimo e lo potete fare anche voi lo potete fare anche voi vi volete comprare la macchina la spider volete fare non lo so che volete fare lo potete fare per la vita è una se non incominciate non finite solo facendo le cose si imparano altre cose vengono altre idee siamo una generazione della del calamaio e della zappa della penna del libro e della spraveca non ci possiamo permettere il lusso di poter fare solo le cose io studio e poi magari a 40 anni stiamo con mamma si devono fare tutte e due le cose che poi stare con mamma non ci sta niente male però crearsi un'alternativa un'indipendenza è importantissimo è importantissimo ho parlato assai ecco per questo che mannaggia miseria gli devo fare i tagli e mi dispiace però da Friburgo e tutto questo è il mio badge e non si dice beige ve lo assicuro si dice badge ragazzi che dire vi voglio bene continueremo ovviamente a parlare di Londra perché ah la domanda ma dove stai? molte persone mi dicono ma dove stai? dove vivi? mi credete vai giù non lo so nemmeno io se mi dite dove hai casa? allora io vi dico a Londra a Napoli in Spagna non sto dicendo che sono mie di proprietà è assolutamente posta marron però ecco cioè mi muovo mi muovo molto 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 diciamo che ultimamente sono un po' non latitante perché magari uno può pensare a male però viaggio veramente molto e ce ne saranno delle belle vedrete ragazzi vedrete veramente fateci caso tutte le volte che ve l'ho detto è vero o non è vero che poi l'ho fatto è vero o non è vero e mi stanno venendo tante idee in mente tante idee in mente anche per voi però ho bisogno di tempo di studio e ovviamente delle persone che ci credono ci devono credere non nelle cose che dico io perché magari che fuffa devono credere seriamente che ci possa essere un miglioramento cioè ci deve essere per forza questo miglioramento e soprattutto le persone che si vogliono rimboccare le maniche perché senza il sacrificio il reale sacrificio e la costanza non si fa niente proprio niente dimenticatevelo vabbè vi ho fatto la palla tanta ora mi faccio una doccia e ci sentiamo e ci vediamo alla prossima ciao ciao